L'Italia le sfide sull'agricoltura di eccellenza le ha sempre giocate e devo dire la verità tutte le caratteristiche per vincerle. È chiaro che ci vuole un'Europa in grado di far sì che le regole siano uguali per tutti. L'abbiamo sempre detto, non ci possono essere regole anche giuste europee per alzare la qualità del prodotto che noi mangiamo e poi avere un mercato mondiale. Quindi se l'obiettivo oggi è migliorare la qualità del prodotto che noi mangiamo, l'Italia è in grado di raccogliere questa sfida e assolutamente di vincerla. È chiaro che questi sforzi di maestria, di sacrificio, ma anche economici delle nostre aziende non possono essere vanificate con una concorrenza sleale o con degli accordi truffa con altri paesi in altre parti del mondo che esportano i loro prodotti in Europa facendo concorrenza sleale perché hanno regole diverse, hanno tecniche agricole diverse e hanno costi di produzione nettamente diverse dalle nostre. Se vogliamo una qualità del prodotto importante come quella appunto che può essere del biologico, io dico benvenga, però anche qui dobbiamo decidere se vogliamo davvero puntare su queste produzioni o diventa una tecnica per indebolire l'agricoltura italiana e avvantaggiare le importazioni da altre parti del mondo.